Lo Stato al contrario, concretamente, cerca sistematicamente, dimostrandosi patrigno, sistematicamente di disconoscere il danno, di disconoscere le ragioni del danno, di disconoscere il collegamento tra la causa che è l'emotrasfusione e l'effetto che è l'epatopatia o anche altre patologie tipo l'HIV, è possibile che venga veicolato attraverso il sangue infetto. E quindi la gente si trova, lo Stato che gli chiude la porta, blocca sia a Seraglia cercando di non pagare quello che sarebbe già solo moralmente, ma anche giuridicamente doveroso per lo Stato. Devo dire che, dobbiamo dire grazie forse anche alla sensibilità dei giudici, i quali, contrariamente a quello che è l'atteggiamento concreto del Ministero, di resistere a qualunque posto e sempre, con qualunque tipo di eccezione, anche in fondata, perché alcune volte sono in fondata, invece, devo dire, grazie alla sensibilità dei giudici che hanno costruito negli anni e nei decenni una interpretazione delle norme che rende ragione agli smendurati che hanno contratto questo virus, grazie anche alla loro sensibilità, alla loro intelligenza, si riesce comunque invece ad ottenere quasi sempre quello che è giusto che la persona ottenga. Ricordo, parlando proprio dell'opera positiva, in questo caso che dobbiamo affermare dei giudici, che anche la Corte di Giustizia Europea, il CEDU, ha recentemente condannato lo Stato italiano per il ritardo di un recentissimo pronunciamento del gennaio 2016 di quest'anno che ha condannato lo Stato italiano proprio per il ritardo sia nel riconoscimento e sia anche nell'erogazione poi degli appannaggi parzialmente refusivi di quello che aspettava i soggetti danneggiati.